Una festa sulla spiaggia organizzata da studenti universitari. La lite tra due gruppi di ragazzi scoppiata per futili motivi, sino a quando dalle parole si è passate alle mani e infine ai colpi di pistola. Così una tranquilla serata estiva stava per trasformarsi in tragedia alle porte di Taranto, dove una sparatoria è avvenuta la notte scorsa nello yachting club di San Vito, locale con annesso stabilimento balneare. Il bilancio è di 10 persone rimaste ferite di età compresa tra i 20 e i 28 anni. Una in modo grave e un giovane ricoverato in prognosi riservata, anche se fanno sapere i medici, non sarebbe in pericolo di vita. Una follia cominciata da un banale litigio tra due comitive di ragazzi, una del rione Tamburi di Taranto, l'altra proveniente da Grottaglie. La lite è degenerata in rissa nell'aria esterna del locale che ospitava in quel momento più di 200 persone. Uno dei giovani coinvolti all'improvviso ha estratto una pistola calibro 9 e ha cominciato a sparare. Quattro ragazze e sei ragazzi hanno avuto la peggio, alcuni di loro sono stati colpiti dai proiettili, altri hanno rimediato lesioni nella ressa che si è generata in seguito. I feriti sono stati trasportati in ambulanza presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Otto sono stati dimessi in mattinata, mentre due risultano ancora ricoverati nei reparti di chirurgia vascolare e ortopedia. Assieme agli operatori del 118 sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile. Acquisiti i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza dell'Ido. Il responsabile della sparatoria sarebbe stato identificato.